Buonasera professor Berbero, ben ritrovati per la nostra storia dietro le quinte. Allora stasera perdiremo da questo quadro dove vediamo un crociato che parte per la guerra e lascia la moglie a casa. Ora, secondo la vulgata, cosa fa il crociato quando parte per la guerra? Dà alla sua signora, mette alla sua signora la cintura di castità, o no? Ecco, questa è una leggenda molto radicata effettivamente, è una di quelle storie anche un po' piccanti per cui magari ci si dà un po' di gomito, si immagina questo medioevo boccacesco con la cintura di castità. Però lo storico deve arrivare a fare il guastafeste e quando le cose non sono vere bisogna dirlo. La cintura di castità è una leggenda al 90%. E l'altro 10%? C'è un nocciolo di verità? Mettiamola così, non è mai stato un oggetto di uso comune come noi ci immaginiamo. Oggi noi tendiamo invece a credere che non solo il crociato, ma ogni cavaliere medievale quando partiva per la guerra imponesse alla moglie la cintura di castità, anche se c'erano dei rischi perché, come dice Fabrizio De Andrei in una famosa canzone, Carlo Martello in battaglia può correre il rischio di perdere la chiave. E poi anche di non tornare. E anche di non tornare. E infatti in questo caso, beh, mi permetto per una volta di raccontare una barzelletta perché è un professore serissimo che la racconta, il professor Klassen, che ha scritto il più importante libro proprio per cercare di scoprire se la cintura di castità è esistita oppure no. E dunque il professor Klassen dice, certo, il cavaliere parte, ma teme di non tornare e quindi affida al suo migliore amico la chiave della cintura di castità. Parte, dopo appena un'ora sente un cavallo al galoppo dietro di lui, si volta, è l'amico trafelato che gli fa, mi hai dato la chiave sbagliata. Dopodiché, naturalmente, appunto, la chiave sbagliata lasciata all'amico rientra in questa prospettiva per cui noi ci immaginiamo che sempre il cavaliere dovesse imporre alla moglie questo marchigegno. Ma com'è nata la leggenda? La leggenda nasce così. Nel Medioevo non se ne parla mai della cintura di castità. Non c'è una sola testimonianza. Il tema del cavaliere lontano dall'amata è trattatissimo. Ci sono mille poeti che si dilungano sulle sofferenze della lontananza. Non ne parla nessuno. Poi nel Rinascimento cominciano a comparire certi disegni. C'è un codice del 1405 che contiene molti disegni di marchigegni immaginari. È un po' come quelli di Leonardo di macchine mai realizzate. Precisamente gli ingegneri del Rinascimento come Leonardo si divertivano a immaginare le cose più incredibili dall'aeroplano al sommergibile, al carro armato. E in manoscritti di questo tipo compare anche il disegno della cintura di castità. Dunque è un parto di qualche spirito bizzarro. Poi non escluderei neanche che qualche principe del Rinascimento l'abbia fatta fabbricare per vedere cosa succedeva. Ma i medici ci dicono che non possono averle usate veramente perché ci si ammala dopo pochi giorni. E le citure di castità che si vedono nei musei a volte? Quelli sono dei falsi. Sono dei falsi dell'Ottocento. Perché come anche gli strumenti di tortura che si vedono in quei luoghi abbastanza diseducativi, devo dire, che sono i cosiddetti musei della tortura nelle nostre città medievali. Nell'Ottocento si immaginano questo medioevo barbarico, crudele, con queste usanze incredibili. Ed è pieno di collezionisti che cercano questi oggetti. E se non ci sono li fabbricano. E però sono dei falsi. Al British Museum, fino a un po' di tempo fa, era esposta una cintura di castità. Poi l'hanno tolta e non se ne è saputo più niente. Quindi lasciamo alle barzellette la leggenda delle cinture di castità. Sì, certamente, come la leggenda dei dischi volanti. Secondo me gli storici devono impegnarsi così come gli scienziati combattono l'idea, la credenza nel paranormale. Noi storici dobbiamo combattere la tendenza della gente a credere alle leggende più incredibili sul passato. Benissimo. Grazie, professore.